Già arrestato per spaccio solo 13 mesi fa, il 36enne di Oria Donato Zanzarelli torna in carcere e nascosti nel comodino della sua camera da letto, i carabinieri della stazione di Oria, coadiuvati dal nucleo cinofili di Mondugno, hanno rinvenuto 52 grammi di eroina e un grammo di cocaina e poi il vario materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e infine 2.391 euro in contanti, ritenuto provento della presunta attività di vendita. Tutto come da prassi è finito sotto sequestro mentre il 36enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere. L'episodio che evidenzia l'impegno dei carabinieri della compagnia di Francavilla, impegnati ormai da tempo a contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, sottolinea pure, se mai ce ne fosse bisogno, il ritorno dell'eroina sul mercato e il suo consumo. Spauracchio degli anni 80 e 90, la sostanza stupefacente sembra aver fatto nuove e pericolose irruzioni nel mercato, più economica della cocaina, persino più letale, le statistiche parlano di un elevato e preoccupante consumo in aumento, anche tra i giovanissimi, una sostanza mortale capace di provocare forte dipendenza e danni psichici e fisici, anche irreparabili.